Allora, il flow ce l'ho, però non è tipo quasi terzinato. Tecnicissimo, capito? Capito? Che nessuno può dire niente, cioè il pezzo è, però... Faccio una strofa che mi scapisce un cazzo. Sì! Occhio ciclopico! Freestyle si usava nel routine per prendere tempo, che era tipo, sai che rappresento... E va così! E va così! E c'era questo che faceva... Occhio ciclopico, massonico, intriso, c'era tutta la roba... Con un occhio aperto e uno chiuso, tutto strano... Poi aveva 15 anni, lui aveva già tipo 45... Occhio ciclopico! E sotto di nardo... E lui trova la gennazione e diceva, ma perché fa un casino? Non si capia niente, raga! Siamo saliti, mi avete portato tu e Vince, io mi ricordo, ero ubriaco marcio, mi ricordo solo, tua mamma, la voce di tua mamma, per esempio che fa... Cemi e tu, sì mamma, e tua mamma, prendo la bacinella... E' incredibile perché tipo, io mi ricordo delle cose e lui se ne ricorda delle altre, assurdo! Incredibile! A presto, ciao! Ciao! Grazie a tutti.